Era lo scorso 19 aprile quando Manuel Cavanna, meccanico 23enne di Chianaccia della Chiana, perse la vita a seguito di un incidente sul lavoro a Montepulciano. Adesso sono due gli indagati che potrebbero andare a processo per la morte del giovane. La procura di Siena ha infatti concluso le indagini e depositato gli atti, un passo che generalmente prelude alla richiesta di rinvio a giudizio. L'accusa contestata è quella di omicidio colposo. In una nota il procuratore capo Andrea Boni spiega che la morte di Cavanna pare doversi ricollegare all'uso di un profilato in ferro utilizzato per sbloccare l'auto articolato su cui gli indagati e la vittima stavano lavorando. Per la forza esercitata sul pezzo lo stesso si è piegato all'improvviso colpendo al torace Cavanna e causandone la morte immediata. Il 23enne lavorava in un'azienda che produce strutture in metallo e box per cavalli, la LM in località Treberte. La ricostruzione della dinamica, chiariscono gli inquirenti, è stata resa possibile anche per la collaborazione resa dagli indagati. La ricostruzione dell'evento fatta dal servizio prevenzione e infortuni sul lavoro ha poi completato il quadro.